Il valore di questi campionati universitari? Credo che per Messina sia un avvenimento importante che dà risonanza alla città, quindi per parecchi giorni si parlerà di Messina, quindi credo che sia un avvenimento molto importante. Peccato per quello che è successo oggi, che ha un po' rattristato la cerimonia d'apertura. Insomma, speriamo che non succedano più questi avvenimenti. Adesso faccio la mamma e faccio dei progetti alla scuola primaria di educazione motoria. Però nel cuore lo sport rimane sempre? Sempre, sì, è chiaro che rimane sempre.